Sindaco Di Lorenzo, sono passate tre settimane dalla frana che ha colpito Villa Celiera, resta l'emergenza, restano 41 persone ancora fuori dalle loro case. Purtroppo la realtà è ancora questa, abbiamo ancora 18 famiglie, quindi 41 persone ancora fuori dalle proprie abitazioni, di cui qualcuna danneggiata in maniera forse irreparabile e il resto in attesa di monitoraggi puntuali dell'area per dare un senso di sicurezza che ci dia a noi la possibilità di farle rientrare nelle proprie abitazioni. Siamo qui in attesa di buone notizie, nella speranza di buone notizie da parte del Governo centrale, della Protezione Civile Nazionale per quello che riguarda eventuali finanziamenti, le richieste inoltrate sia da noi come amministrazione comunale, soprattutto dalla Regione Abruzzo e dal Presidente D'Alfonso, quindi siamo in attesa di notizie. Il meteo non aiuta, nelle prossime settimane sono previste piogge, forse anche neve. E' ipotizzabile in questo momento fare una previsione su quando potranno tornare a casa i primi cittadini? Purtroppo assolutamente no, le previsioni continuano a essere pessime per i prossimi almeno 5-6 giorni, vista pure l'altitudine del nostro piccolo comune, è prevista anche qualche, seppur debole, nevicata, ma soprattutto piogge, quindi per quello che riguarda il possibile rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni non si possono azzerdare previsioni. Sindaco, a Civitella Casanova, un centro limitrofo proprio a Villa Celiera, la situazione è ancora più grave perché la frana continua a muoversi? Si tratta di un movimento ancora più profondo a livello morfologico di quello registrato a Villa Celiera con l'interessamento di fabbricati che sono stati letteralmente distrutti dal movimento franoso e per quello che riguarda i tempi si presume siano addirittura più lunghi di quelli della frana Villa Celiera. Purtroppo siamo accomunati nella sfortuna da questi due eventi.